15 dicembre La preghiera a Santa Virginia Centurione Braccelli, ti dona ora la grazia. In un mondo che spesso ci sfida e ci mette alla prova, troviamo in Santa Virginia Centurione Braccelli, un faro di luce che ci guida con il suo esempio di carità infinita e amore per il prossimo. 16. Lei, che ha dedicato la sua vita a sostenere i poveri, gli ammalati e gli emarginati, ci ricorda che anche nei momenti più bui possiamo essere strumenti di speranza e conforto. 17. Prima di iniziare questa preghiera, lasciamo che il nostro cuore si apra alla grazia, permettiamo alla sua intercessione di ispirarci ad agire con generosità e compassione. 17. Recitiamo con fede e umiltà, chiedendo il coraggio di seguire le ormi di questa straordinaria santa, così che anche noi possiamo essere riflessi del divino amore che trasforma le vite. 18. Santa Virginia Centurione Braccelli, prega per noi. 19. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Santo, sorgente d'ogni bene, che ci rendi partecipi del tuo Spirito di vita, ti ringraziamo per chi hai concesso a Santa Virginia la fiamma viva dell'amore per te e per i fratelli, soprattutto per i poveri e gli indifesi, immagine del tuo Figlio Crocifisso. 21. Donaci di vivere la sua esperienza di misericordia, di accoglienza e di perdono e, per sua intercessione, la grazia che ora ti chiediamo. 22. Per Cristo nostro Signore. 23. Amen. 23. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 24. Amen. 24. Amen. Grazie a tutti.